Salerno, mercatini. Qua stanno facendo i waffer. Salve, come stanno andando i mercatini? Siamo di Positano News. Voi di dove siete? I waffer sono olandesi. E tu di dove sei? Io sono peruviana. Di? Peruviana. Peruviana. Hai visto, dal Peru vengono qui a fare i waffer, complimenti. Grazie, buonasera. Poi abbiamo i formaggi. E poi abbiamo altri waffer. Ci sono parecchi, quando pare. E' tutti simbatici. Voi dove siete? Provincia di Sassari, Patano. Di? Provincia di Sassari. Sassari, della Sardegna. Sardi di Sardegna. Bellissimo. Ed ecco l'altro prodotto Positano News, il giornale della Costiera Marquitana, in Sorrentina. Vi vedrete lì? Salve. Ed ecco. Com'è sta andando? Male. Male, perché? Poca gente. Poca gente. Ma il sabato e la domenica? E' uguale. Tanta gente e pochi soldi. Tanta gente e pochi soldi. E' complimenti. La simpatia che c'è di questi mercatini, tutti colorati, come devo dire.